Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Giuseppe e oggi giochiamo su Clash Royale. Nel prossimo video avevo detto di raggiungere la strega. Eccola qua. E devo andare qua. E oggi lo facciamo. Prima di tutto prendiamo la strega. Questa. Ecco la strega. Ora mi hanno andato a mettere i draghi. Scusate, questo era il mio corpo. Dai la freccia. Ok. Abbiamo questo baule. Perché? Aspettate. Cosa c'è? 10 GM. Ottimo. 50 ore accendiamo. Dopo riscioppare. Non posso. No, perché? Ok. Mettiamo. Ma non c'è la strega. Vabbè, mettiamo il dronatore. Andiamo a fare una partita. Ok. Guardate per il caricamento. Guardate per le voci perché è mia madre. Ok. Ok. Ma come vuole la mano veloce? Io lo capisco. Guarda che cosa mi ha fatto. Scalettrino all'attacco. Ora dite. No, Giuseppe. Non lo mettete. Poi c'è il gigante. Come fai? Ragazzi, poi ci penso io. La strega. Usiamo. Beh. Lo so, lo so come si usa. Ho visto. Anche lei ce l'ha. La strega. Anche lui. No. Ok. Tom. 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 Vado a prendere le voce perché è mia madre. Sempre il tuo voce. No, 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 no. Lo so che sono scarso. Oh. Per sentire le farò racce mi moda. Scusate però. De di vita. No. È quello che ce l'ha. di questa parte c'è quella non c'è uno di buone partente vai vai no quella è andata non trovo niente non penso che si sa oggi ragazzi non è facile è di te a casa non è facilissimo se non è bo è vero è vero guarda quello che c'è perché mi... vabbè cosa è andata no? lo so che... grazie che mi dici bambè faccio questa ora di te nooo no no non ne fai coppe ora faccio questa prima per riscaldarmi poi faccio l'altra non ne avevo bucato perché è bello giocare insieme? perché ti fa una compagnia nooo calma 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 pum sono morti tutti ridi ridi lo so ridi poi che poi una bomba si scuota tutto ci stanno stanno fanno 내 resigli nei resigli ridi ridi non ancora ridi vuoi sparti no ragazzi non posso farlo buttala cosa è scarsa scarsa ma scusa la potevi buttare prima ma perchè ridono? non sono non è un problema nel stesso momento ok vai 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 dove vuoi le tumori? c'è mia madre vai vabbè intanto sta attaccando dall'altra parte ma neanche c'è il mio fattore su vai si ma perchè? vabbè non hanno fatto neanche un colpo da noi guarda mi siamo messi no sono stupido vabbè anche io metto l'arche sono chi non capisce? ma come da un momento? non ce la fanno mai questa cosa per una torre vai guarda che stanno facendo i draghi vai drago vai vai che la distruggiamo con la torre vai 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 scheletrini parte no ma è scemo questo ma perchè ha detto si poi non l'ho visto è bravo che butta va l'hanno vinta portate a casa mi ha rito mi ha rito ma poi ridevo ma poi c'è un mio amico amico sei il mio amico migliore ma pure è la porta perché non è la porta gioco con quello con quello che ho giocato prima me lo vuole giocare sono ma che mi vuole vedere col fiatone perchè dettagli non è la rito parto così parto così già la torre è fatta quasi però subito mi ma si è fatto questo distruggiamo dai è proprio perchè vai vai non ho fatto la torre non ho fatto la torre niente ma anche io ce la faccio non ho fatto la torre mi sentite parlare di tutto il tempo è mia sorella per quanto pare non si può sardine per la laccia mia sorella che ha 12 anni ora devo stare qua era quello sforo non ho fatto la torre no niente è fatta non io non metto più le mani non è giusto non è giusto perchè io perchè io non ce l'ho è desilio qua non ho sbattato però lo so che devo migliorare però così proprio è grande sentite cantare in mia sorella domotore ecco c'è che bello porto io me la voglio portare a 10 come Gigi non l'ho andata a seguire non l'ho andata a seguire per favore seguite perchè io ho troppo che forlo e va bene e va bene già guarda che cosa ho messo peschelettrini il principe lo so lo so lo sarei dopo però gioco solo questa carta per fermare la strega sentite che correre già questa mi ha fatto una torre ma io ce la faccio io da 10 anni è morto questo questo di avanti sto scaglietto no la seconda ora mi rendico basta ho una cosa che è banale no lo so qua questa è una combo bellissima questo vai sogno di soluzione principale ora ora faccio faccio la stradola guardate 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 però che brutta il dragon lo facciamo allontanare questo dragon lo facciamo allontanare e noi facciamo una torre ok e che cosa butti quello io già l'ho vinta no bam 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 duro ciasco no però me non me la fai così no 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 caro ti pare che perdo ma secondo te te la sognaresti te la sognaresti te la sognaresti te la sognaresti la cosa del genere che io perdo certo giuseppe ha vinto vittoria in italia questo è tropevo uuuu uuuu ora l'ho recuperata subito tuttoretta come l'ho non fa nulla, è grave una partita può uccidere nooo, si ecco lo sapeva, era con le frecce ma invece di corraggio ma perchè è sempre di corraggio? almeno ce l'ho perchè lo voglio avere ad uccisione vedi a momenti questo me lo fa la torre ora quello non la devo difendere con un principe ora di sacco i scheletrini no quello c'è la di qua la bomba è morta non ci sto credendo no 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 non giusto allora quello c'è la bomba non la fa non la fa non ce l'ha 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 non butta più niente ma come ho fatto? ando io con le qui buona ma ba no ma quello c'è il col ma ba fa ha ha invece di però ho fatto molte e non ho fatto dai che c'erano tre minuti in più era vinta era stravinta ormai butto la io dico basta non è visto più video ma scherzo ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale ciao